Accudivo un'anziana parente, ma in 5 anni di assistenza era riuscita a portarle via un vero e proprio tesoretto, ben 40.000 euro. Adesso è stata smascherata e denunciata dai carabinieri, nei guai è finita una 75enne. È successo in Casentino, vittima del raggiro un 86enne con problemi alla quale la parente prestava assistenza. Ad accorgersi degli ammanchi sarebbero stati altri parenti dell'anziana che si sono così rivolti alle forze dell'ordine. La 75enne è stata denunciata per circonvenzione di incapaci dai carabinieri di Prato Vecchio. Secondo gli investigatori, infatti, la donna nel corso dei 5 anni, nei quali si sarebbe dovuta prendere cura dell'anziana parente, in realtà si sarebbe approfittata di una sua minore capacità psichica e nel corso del tempo, con diverse operazioni finanziarie, è riuscita a sottrarle l'ingente somma. I militari hanno infatti rilevato che si è trattato di prelievi non autorizzati, oltre che dell'incasso e intestazioni di buoni fruttiferi e polizze assicurative.